poi dicono eh però qua sono populisti, sovranisti, egoisti, razzisti, fascisti, nazisti, isti ma perché scusa? Io sono autonomista è una prossima conquista fondamentale per fare star meglio tutti, non solo a Como ma da nord a sud sarà l'autonomia per restituire finalmente responsabilità ma ti amministro a un territorio responsabilità a chi sperpera i quartini e questa autonomista io non accetto il fatto che qualcuno da Bruxelles, da Parigi, da Berlino, da Strasburgo venga qua a spiegarci come si fanno i misoltini e lo sapete voi come si fanno i misoltini o minga bisogna di un care che mi spiega come si fanno i misoltini quindi io do rispetto a chi porta rispetto sono contento di quello che abbiamo fatto sono contento di avere ridotto gli sbarchi del 95% rispetto all'unico precedente grazie mille